Sindaco Tarquini, il paese alle sue spalle, la frazione di Passino è evacuata da ieri, la Ruzzo ha completato la prima riparazione e l'unica speranza che resta è che non vi siano peggioramenti sulla condotta. Sì, adesso stanno rimettendo in pressione la condotta, quindi il tempo di verificare, poi si comincerà a chiudere lo scavo. Io insieme agli altri amministratori stiamo facendo un giro sul territorio per vedere la viabilità, ci siamo accorti di quel movimento, poi ieri mattina la situazione era peggiorata e quindi ho dato l'allarma, ho chiamato i vigili del fuoco, poi si è mostrato insieme alla prefettura e nel pomeriggio, verso le tre e mezza, abbiamo sistemato gli abitanti in albergo, c'erano pure due allettati. Io sono uno dei pochi residenti di questa piccola frazione e abbiamo reagito adattandoci alle circostanze, nel senso che il sindaco, che voglio pubblicamente ringraziare, ha adottato un provvedimento di sistemazione alberghiera e che noi abbiamo accolto, non dico malvolentieri, ma adattandoci alle circostanze. Ho ricevuto una telefonata dal presidente della regione D'Alfonso dicendo che praticamente non ci lascerà abbandonati, adesso vedremo la causa, poi l'interessante è comunque che qua sono venuti tutti, dal presidente della provincia, dal presidente della regione, dal consigliere Mariani, quindi c'è stata la massima partecipazione delle istituzioni. Le persone evacuate quando potranno fare rientro? Le persone evacuate penso che se il tempo mantiene due giorni, tre giorni dovrebbero rientrare a casa.